Pace a tutti, ben ritrovati a questo meraviglioso appuntamento che il Signore ci dà attraverso i culti di Radio Messaggio Cristiano. Buon ascolto e buona visione, ascoltiamo insieme la parola di Dio. Alleluia, per come ci hai chiamato, alleluia, per come ci hai condotti, alleluia, in questo luogo santissimo dove, oh Signore, tu ci parli e ci amma estri giorno dopo giorno, alleluia, gloria al tuo nome, ci prepari veramente per il tempo dei cieli, alleluia, ti preghiamo ancora questa sera, sensibilizza il nostro cuore, fai che lo Spirito Santo possa compungere il nostro cuore, la nostra anima, alleluia, gloria al tuo nome, ed ogni tua parola possa essere assimilata, Signore, custodita preziosamente dentro di noi per tirare al cuore al momento fortuno ciò che tu ci insegni, alleluia, gloria al tuo nome, per non venire meno per via e per raggiungere la meta gloriosa del regno dei cieli, per la tua gloria e la gloria di Gesù, benedetti in eterna. Amén. 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 Grazie a tutti. 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 Oggi non lo vogliamo fisicamente ma lo sentiamo spiritualmente, dovrebbe essere la stessa cosa. Però, sapete, c'è chi si accontenta di realizzare un video di sfido, c'è invece che vorrebbe, magari, ecco, una stalla. E' una bella strada davanti e un'altra cosa che può parlare. E' un'altra cosa che si accontenta di realizzare un video di sfido, c'è chi si accontenta di realizzare un video di sfido. E quando io parlo da pulpito, parlo perché il Signore mi fa parlare. Chi non, ecco, chi disprezza il proprio dialetto è come se disprezzasse suo padre e sua madre. Dice perché? Perché il dialetto che noi usiamo è il linguaggio che si parlava quando noi siamo nati. Sì, è vero o non è vero. Oggi nascemmo nel nostro. Nascemmo in Sicilia. Ah, è giusto. Ecco, allora, bisogna conoscere tanto il dialetto per onorare la terra nativa. Fratello, tu sei di Calabria e devo onorare Calabria. Tanto siamo cucini, siamo vicini. Tanto i vocaboli sono gli stessi. È giusto? Alleluia, gloria a Dio. E allora, quindi, disprezzare il proprio linguaggio di origine è come disprezzare effettivamente il padre e la madre. Che poi, guardate che, a scuola, dice vogliono, volevano e vogliono che si parli in dialetto pure. È vero. È vero, è vero. È giusto. O come se non hanno parlato di tutto il giornale? Quando non ne parlano, gli ignoranti. Gli ignorano male. E poi un'altra cosa ancora, che ho scoperto successivamente, e guardate che non lo faccio apposta, perché Dio è presente. Dovete sapere, però non lo faccio apposta, perché ripeto sarei un meschino e miserabile davanti a Dio. Perché se io facessi le cose apposta per attirarmi la simpatia, sarei l'essere più abominevole. Alcuni, o telefonicamente cosa, dice noi, dice lo seguiamo perché è bello quando lei va in dialetto. Non ci credete? In quel tavolo, dice. Dice, perché ne fa sempre le famiglie in casa? Mi ha detto. Ora, a cui accontentare? Guardate, ecco, se l'anziano non avessi ucuso d'oro, no? Sarei come una banderola al vento che si pariva da tutto il lavoro, perché è una cosa che è già? Meno male che io ho un carattere che non mi smuovo, manca accadurabili, non è che sono presuntuoso, attenzione, non è che essere presuntuoso è sbagliato. E come il Signore ci sta insegnando, vedete, perché noi ci dobbiamo amare gli uni e gli altri. I rimproveri, quando un padre, una madre, dà ai propri figli, non è che vuol dire che quei genitori non amano i figli, anzi, se li riprendono, perché poi è parola di Dio, dice, riprendi il tuo figlio, anzi, flagellolo puro. Dice, oggi la legge è un po' diversa, e oggi se noi dovessimo effettivamente osservare la legge degli uomini, intanto si vede la maleducazione che c'è in giro, al mio paese, i giovani, i giovanottini, oppure i ragazzi, i ragazzi magari ancora non capivano, ma quelli che erano giovanottini, quando vedevano una persona anziana, la salutavano, ossia ci dicevano, con la V, a me non mi va a dire, e Vossia, voleva dire, vostra Signoria, vostra Signoria, voleva dire Vossia, alleluia. E, guardate che, che sarebbe bello se potessimo ritornare indietro, eh, alleluia. Ecco, ossia, un'està, un'està nanno, ecco, no, un'està nanno è messenese, un'està nanno, che poi, attenzione, madre, guardate che si è discusso, sono da parte del Signore, in verità ve lo dico, come è vero che l'Eterno vive, perché mi sta dando le stesse cose quando, è un messaggio. Subito, mi dà la spiegazione di ciò che, allora, attenzione, secondo voi, qual è più giusto dire, un'està nanno, oppure un'està nanno? Qual è più giusto? L'uno dei due? Sono giusto tutti e due? Sono giusto? No? Sono tutti e due giusti? Non perché uno e due paesi, perché sempre io sogno provincia di Messina, è giusto? Allora, un'està nanno, deriva da dove sta andando, amè? Un'està nanno, deriva dal latino, quindi, voce del verbo ire, ire vuol dire andare, in latino, e siccome la lingua italiana deriva dalla lingua latina, dal latino, quindi sono tutti e due giusti, amè? E ci siamo, gloria a Dio, e ci sono cose, torno a ripetere che il Signore ci sta insegnando, perché la gente ci reputa persone ignoranti, invece il Signore ci dimostra, io figlio, a chi è che la scuola era scecco, che sarei io? E di chi è che la bocca, di chi è che era scecco, io mi insegno tutte cose, all'allù, gloria a Gesù, all'allù, ci siamo, all'allù, sia gloria a Dio, mentre va a cantare un'amore, che la scuola frazzi, all'allò, e che la scuola frazzi, all'allò, che la cosa, la cosa, il Signore, che il Signore, che il Signore, che la cose, Alleluia, tutto ciò che è impossibile all'uomo, dice, è possibile a Dio, alleluia. Quindi mi sostieni nelle prove e la pace e l'allegrezza in cui mi dai, se ti chiamo non tardare, lo puoi fare per Gesù. Cioè quando noi invochiamo il Signore, il Padre, ecco Signora aiutami, allora dice, non per i meriti che noi abbiamo, ma per la mediazione che c'è tra Dio, tra il Padre e noi per mezzo di Gesù. Alleluia, come lui ci insegna nella sua parola che è un nostro avvocato presso il Padre. Come dice Giovanni in una delle sue epistole, dice, ecco, se noi confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati, anche purificarci da ogni iniquità, figurate, gloria al Signore. Perché? Ecco, l'avvocato presso il Padre consiste in questo, nel senso che quando il Padre vede che noi sbagliamo, se non ci fosse stato il sacrificio di Cristo, allora quel nostro errore, che davanti a Dio è peccato, allora quel peccato, piccolo, grande che sia, non sarebbe giustificato, non verrebbe giustificato. Allora, in che cosa consiste? Consiste in questo, che automaticamente, non appena noi sbagliamo involontariamente però, perché se lo facciamo apposta, no, quando noi sbagliamo involontariamente, perché vedete, quando si sbaglia, o volontariamente o involontariamente, il peccato deve essere sempre espiato, pagato. Infatti, venivano offerti dei sacrifici nel Vecchio Testamento che molti disprezzano, molte, ma non penso che siano molte, soltanto quelli che si sentono scaccio, oppure gezzare fango su pallauce. E allora, perché nel Vecchio Testamento, quando si peccava per ignoranza, ugualmente doveva essere offerto un sacrificio. Vi porto questo esempio. Mettiamo caso. Io, se, da non credente, io parlo da non credente, io ho questo libro dei cantici in mano, va bene? Ci siamo? Va bene. Oh, allora, da non credente. Ma chi è questo libro qua? Vai, ora mi chiedo, io ho sbagliato. E lo strappo da non credente, perché ancora non conosco la verità. È giusto? Ci siamo? Fin qui? Strappandolo, poi mi accorgo di avere sbagliato. Allora, il padrone del libro, il proprietario del libro, che cosa fa? Prende la pagina che io ho strappato e la ripara. Ci siamo? Mi rimprovera. Mi dice, ma che cosa... Con ragione, ho strappato un foglio di un libro, me l'hai strappato. Quello che cosa fa? Lo ripara. È giusto? Ci siamo qui? Ha fatto bene quello che ha riparato il libro che era... Ha fatto bene, è fatto bene, no? Perché, giusto, sono tante citture, signore. Quindi, oh, allora, io divento credente. Involontariamente, pigli assasso un foglio di questo libro. Una pagina, l'ha strappato, involontariamente. È giusto? Dal momento che... Allora, il proprietario del libro mi dice, Vada, apri una volta, o sazzarti, o facci sta apposta e io riparai. Sta volta che l'hai strappato, involontariamente non lo riparo. È giusto o non è giusto? Quindi, in ogni caso, o volutamente, o involontariamente, la pagina va riparata. E richiede, quello che si usa, è giusto o no, così sono i peccati volontari e involontari. Non possono rimanere foglie e sazzati davanti alla giustizia di Dio, alla purezza di Dio. Allora, a questo punto, quando il peccatore volutamente pecca e non ha, diciamo, conosciuto il Signore, e si pente, allora interviene il sacrificio di Cristo, che lo perdona. Dice, beh, lo hai fatto apposta, eri nell'ignorazione, va, non eri credente. Ora, noi da credenti, quante volte sbagliamo durante il giorno? Quindi, commettiamo degli errori che, se li avessimo commessi, diciamo, prima, senza chiedere perdono, non sarebbero stati cancellati. Allora, a questo punto, visto che effettivamente noi abbiamo sbagliato, abbiamo commesso degli errori involontariamente, non abbiamo bisogno, ecco, di andare a offrire un sacrificio al Signore per il peccato involontario. Ci siamo. Scatta automaticamente il sacrificio di Cristo. E come? Ecco, se Gesù dicesse al Padre, Padre, ha sbagliato involontariamente, però grazie al sacrificio compiuto sulla croce. Ecco, vedete, certo, se poi ce ne accorgiamo, allora chiediamo subito perdono al Signore, ci siamo, ma quante volte noi sbagliamo e non ce ne accorgiamo? Allora, lì scatta il perdono da parte di Dio, interviene, cioè Cristo, come se fosse un avvocato che ci giustifica, ci difende e ci fa vincere alla causa davanti al Signore. Sono riuscito un poco a farvi capire che significato? Il Padre per mezzo di Gesù ci ha riavuto a sé, o meglio a loro, perché Gesù era presente quando Dio ha creato l'uomo, l'ha creato insieme a Gesù, creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, giusto? Quindi grazie, vedete, quindi guardate, Gesù è stato indispensabile e quando fa le cose il Padre può sbagliare in qualche cosa? Ha fatto un'opera perfettissima in Gesù, cosa che purtroppo non ha potuto fare con noi, con l'essere umano, perché la nostra natura è adamitica, ecco, ci porta sempre a sbagliare. Ma si è glorificato il Dio che non siamo perfetti, ecco perché vedete, non bisogna mai giudicare, perché dall'esterno, quello che vi ho sempre consigliato, noi dall'esterno che vediamo qualcuno sbagliare subito, entra in noi quell'istinto di giudicare, non lo dobbiamo fare. Attenzione che noi non dobbiamo giudicare la magia di Gesù come uno, perché il Signore non ci ha dato da giudicare, il Signore ci ha dato di pregare per quelli del mondo. Alleluia, amè? Quindi noi dobbiamo sempre metterci la buona parola, amè? Non bisogna mai giudicare, né sputare nel piatto dentro il quale si mangia. Perché fino a quando uno dice, allora le cose vanno rite, tutto, un fratello, 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 basta che uno dice tanto, quindi l'amore, vedete, copre molti piuttosto di peccate. Ecco, al limite, un pizzico di giudizio l'anziano può dare, perché altrimenti va se non ci fosse, perché i giudici bisogna rispettarli, perché è chiaro, se io devo riprendere un fratello lo riprendo, significa che lo sto giudicando, automaticamente il rimprovo è così, è la retribuzione dell'errore che si commette, è giusto? Allora, vogliamo passare, alleluia, alla lettura della parola del Signore, come la troviamo scritta. Allora, nel capitolo 18 della Genesi, l'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Manre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda durante il caldo del giorno. Abramo alzò gli occhi ed ecco tre uomini stavano in piedi davanti a lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda, si prostrò fino a terra e disse Signor mio, se ho trovato grazia davanti a te, ti prego, non passare senza fermarti dal tuo servo. Beh, lasciate che si porti un po' d'acqua affinché possiate lavarvi i piedi e riposatevi sotto quest'albero. Io andrò a prendere un pezzo di pane, così potrete rinfrancare il vostro cuore. Poi proseguirete il vostro cammino perché per questo siete passati dal vostro servo. Quegli dissero, fai come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e le disse, presto, prendi tre misure di fior di farina, impastala e fanne delle focacce. Poi Abramo corse all'armento, scelse un vitello tenere e buono, lo diede a un servo e si affrettò a prepararlo. Prese poi della cagliata, del latte e il vitello che aveva preparato e li pose davanti a loro. Mentre essi mangiavano, egli rimase in piedi accanto a loro sotto l'albero. Poi essi gli dissero, dove è Sara tua moglie? Abramo rispose, è là nella tenda. Ed egli disse, tornerò certamente da te l'anno prossimo a questo tempo. Ed ecco Sara tua moglie avrà un figlio. E Sara ascoltava all'ingresso della tenda che era dietro di lui. Ora Abramo e Sara erano vecchi di età avanzata e Sara non aveva più i ricorsi ordinari delle donne. Perciò Sara rise dentro di sé dicendo, vecchia come sono, avrei io tali piaceri dato che il mio stesso signore è vecchio. E l'Everno disse ad Abramo, perché mai ha riso Sara dicendo, partorirò io per davvero vecchia come sono? Vi è forse qualcosa che sia troppo fa, difficile per l'Eterno? Al tempo fissato, fra un anno ritornerò da te e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò dicendo, non ho riso perché ebbe paura. Ma egli disse, invece hai riso. Alleluia. Amen, amen, amen. Fin qui la lettura. Allora dice Sara, negò dicendo, non ho riso perché ebbe paura. Ma egli disse, invece hai riso. Ecco, potrebbe sembrare che Sara fosse anche una bugiarda. Cioè, come se avesse detto una bugia. Non ho riso. Però, ecco, vedete, ora lì ci vuole non giudicate affinché non siate giudicate. Perché magari chissà, tante volte dicendo, guarda, però Sara ha imbrogliato. Gli ha detto all'Angelo dell'Eterno, non ho riso. Ecco, vedete, gloria al Signore Gesù. Quindi, si potrebbe benissimo giudicarla come una bugiarda. Invece, si è glorificato il Dio quello che il Signore mi ha fatto rilevare leggendo. Ecco, lei ha detto, non ho riso. Perché? Siccome tutto quello che lei ha detto, non l'ha detto a voce alta, ridendo a voce alta. Ha riso e mentre mostrò, diciamo, con quel sorriso i suoi pensieri, il Signore l'intuì. Quindi, se Sara si fosse accorta che Gesù, che sarebbe l'Angelo dell'Eterno, l'avesse vista ridere, non avrebbe detto, non ho riso. È giusto? Perché dice, scusa, io come ci stai ridendo, non ti facci. E ora ci dico, non ho riso. Quindi, il tutto è avvenuto, mentre Gesù non la vedeva in faccia. Vedete? E Sara ascoltava l'ingresso della tenda che era dietro di lui. Vedete che era dietro di lui, del Signore. E allora, perché il Signore l'ha fatto? In modo tale che tanto Abramo che Sara riconoscessero di essere stati visitati da Dio, dall'Eterno, dall'Angelo dell'Eterno. E che quella promessa gliela stava facendo non un semplice viandante, uno che si trovava di passaggio lì, ma che effettivamente, guardate come Dio ha onorato grandemente tanto Abramo che Sara, che sono andati direttamente dalla tenda, alla tenda di Abramo. E Abramo era seduto, vedete, sotto un albero di quercia, di ghiante, va? All'ombra, perché era un giorno estivo, perché dice c'era il caldo del giorno, quindi doveva essere un giorno d'estate, nel periodo estivo. Quindi lui era all'ombra, sotto l'ombra di quest'albero, e vide questi tre personaggi, queste tre persone che si stavano avvicinando verso di lui. Quando lui le vide, gli corse incontro e li fece accomodare in modo tale che loro si potessero riposare, lavare i piedi, perché camminando, vedete, non è che c'erano le scarpe chiuse, si vede che non è, e anche se ci fossero state, avessero avuto le scarpe chiuse, però camminando a piedi, quindi piedi stanchi, quindi Abramo gli offriva ora quest'acqua in modo tale che loro si rinfrancassero, si riposassero, sia a livello, diciamo, muscolare, i piedi, le gambe, che poi anche prendessero qualcosa del cibo per mangiare. A me, gloria a Dio. E guardate come effettivamente, diciamo, il Signore accetta l'invito che Abramo gli fa. Perché? Appunto perché il Signore era andato proprio apposta, gloria al Signore. Vedete, quando il Signore sceglie una persona e quella persona è disposta ad accettare quella che è la volontà di Dio, vedete, non deve oggi come oggi porsi dei problemi per dire, ma io saprei veramente discernere se è da parte del Signore o non è da parte del Signore. Ecco, l'importanza, vedete, di essere semplici, umili di cuore e come il Signore ci ha spiegato, non giudicare. Perché? Perché già, vedete, il non giudicare ne fa di noi una persona gradita a Dio. Perché chi giudica automaticamente diventa un maldicente. Mi capite? E i maldicenti non possono essere usati da Dio. Alleluia. A me gloria all'altissimo. E, vedete, allora, e siccome, vedete, Abramo non era un maldicente. A me? Era una persona, certo aveva anche lui senza dubbio i suoi difetti, però sono difetti che il Signore conosce e sa che fanno parte della nostra natura umana, terrena. Ma altro è, vedete, fare le cose apposta. E come per esempio è il fatto anche di aggiungere le cose che uno fa per dispetto, no? E giudicare. Ecco, come ci sono quelli, no? Che anche su, per esempio, nell'ascoltare la radio, lo fanno apposta che parlano male, sia della radio, che lo fanno apposta e fanno sia l'uno, quindi lo fanno apposta, quindi peccano, sia perché lo fanno apposta e perché giudicano. Ora, quei tali, vedete, sono dei maldicenti. Quelli non potranno essere mai usati da Dio. Perché Dio è misericordioso. E Dio ha detto, Gesù ha detto, che non bisogna giudicare. Quindi è inutile, quando vedete quelli che giudicano, non perché giudicano, attenzione, che giudicano me, ma giudico chiunque, mi dicono in verità, e che lo sappiano tutti quelli che ancora continuano a parlare male, lo fratello di Luca, che non li considero neanche come spazzatura. Quindi le loro maldicenze non smouono minimamente. me lo dico in verità. Per me è come se non esistessero. Non le dici, guarda, ora ci facemmo apposta, parammo male. No, io neanche li considero. Perché già, se io li considerassi, mi porterei al loro stesso livello. No. Quanti erano quelli che parlavano male di Gesù? Ma si senteva Gesù a dire, tu dici questo di me, perché tu che sei... Guardate, Gesù si faceva... Amen. Gesù si occupava esclusivamente di fare conoscere la giustizia di Dio e la salvezza di ogni incredente. Ci siamo, gloria al Signore Gesù. E allora, ascoltatemi bene, chi parla male di quest'opera e parla male del fratello De Luca, sappiate e davanti a me fanno una faccetta lavata, sappiate che non sono persone serie. Quindi loro, quando voi voltate le spalle, parleranno male anche di voi e giudicheranno anche voi perché è nella loro natura. Quindi, quello è un defetto che hanno. Quindi, per ora, che hanno a parare male di me, allora pigliano a me come argomento. Però siccome non sanno stare senza giudicare, senza parlare male, allora, quando non ci sono gli argomenti, allora me ne prendono un altro e ammanuggeranno, se passano prima tutta la chiesa, a nostra chiesa, alla loro chiesa, se per questo non l'avamo già fatta, perché è nella loro natura. Ora, vedete, quei tali, quei tali non saranno mai usati da Dio. Loro vogliono dimostrare di essere giusti giudicando, ma già trasgrediscono la parola del Signore, vedete, sono già dei trasversori. Perché, dove sta scritto che bisogna giudicare? Amen. Sta scritto, anzi, Gesù diceva, non giudicate. Quindi, allora, ora, Abramo, aveva questi requisiti, era misericordioso. Guardate che, lui ha dimostrato, alleluia, di essere un uomo gradito a Dio. Perché? Quando è stato di lotte, che poteva, anche in quella circostanza, quando si sono dovuti separare, allora, che si è venuto a separare male di lotte? ci risulta che Abramo si è messo a parlare male di lotte, oppure lotte che si è messo a parlare male di Abramo. Anzi, quando poi Abramo ha visto lotte in difficoltà, che lo avevano preso prigioniero, quattro re con i loro eserciti li ha affrontati, con 318 persone, servite, servitore, amèn, se noi vogliamo essere usati dal Signore, dobbiamo cercare veramente di nascere di nuovo di acqua e di spirito. A semente, fratelli, non ce ne esce niente, il Signore non si può prendere in giro, alleluia, e quindi, perché vedete, se noi agiamo sempre correttamente, onestamente, lealmente, il Signore non ci farà sbagliare, vedete, pure, voi che pensate, chissà quante persone erano passate da lì dove lui era accampato, gloria a Gesù, eppure, vedete, soltanto quando lui ha visto queste tre persone, questi tre forestieri, subito, come qualcosa, è sussultato dentro di lui, che gli va incontro, alleluia, e dice, venite, 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 riposatevi, sedete sotto quest'albero, io vado a provarmi un pezzo di pane, vedete fratelli, che uno non ha bisogno, perché magari uno si scanta, ma cosa fa il Signore, bene, mi prova, se io, non riesco a capire, lo so, ti preoccupare, ma non hai la lingua lunga, ti preoccupare, ma ti sforzo di camminare saggiamente, rettamente, nella via di Dio, ma ti sforzo di mettere in pratica, che poi sarà il Signore stesso a illuminarti, sarà Lui stesso a illuminarci, a semente, fratelli, eh, seminammo spini e regoliamo tempeste, perché come semina spini non può aspettarsi buon frutto, ci siamo, gloria a Dio, e quindi, questa sera il Signore, vedete, ci sta mettendo davanti a Abramo, questo grande uomo di Dio, che vedete, conduceva la sua vita normale, male, se vorremmo, non si stava raposando, un creatore, diciamo neanche noi, in dialettura, era sotto al labbro, se vedete che c'era Dio Caudo, no, quindi pure lui stanco, ah, stanche, quindi Abramo, stanco, quasi poteva ragionare male, Dio Caudo, che c'era vuoto, no, però ecco, chi ha il carattere naturale, è mite, e compassionevole, misericordioso, giusto, gloria al Signore, alleluia, vedete come il Signore viene incontro e aiuta, alleluia, e anche, vedete, con Sara stesso, perché Sara agito in quella maniera, perché effettivamente, umanamente, uno che si sente dire, di uno sconosciuto, oppure dei sconosciuti, ma era sempre lui che parlava, perché i due angeli, chiaramente, accompagnavano Gesù, l'angelo dell'eterno, però loro, non è che parlavano, era Gesù che parlava, che diceva il tutto, quindi, quando Sara, giustamente, sentì parlare, dire quelle cose, a uno sconosciuto, dice, ma, sto sconosciuto, come vieni a dire a casa, oggi? alleluia, che io, avrò un figlio, eh, come, Abramo, è vecchio, io, sogno vecchio, diceva Sara, da sua mente, e, ero di a me, sapete, non mi sono reso un po' di scherno, quando lei ha sentito, invece, alleluia, perché dice, vedete, e Sara ascoltava all'ingresso della tenda, che era dietro di lui, ora, Abramo e Sara erano vecchie, di età avanzata, e Sara non aveva più i ricorsi ordinari delle donne, vedete, quindi, era, è stato spontaneo, e, il riso, il sorriso che ha fatto Sara, ed anche, ehm, ciò che ha pensato, a me, perché non è che ha offeso, perché lei non sapeva ancora che quello era l'angelo dell'Edenno, mi capite, quindi, perché qualcuno può pensare, dice, Deid, lei cosa ha detto al signore, gli ha detto queste cose, no, perché non lo sapeva, è giusto, quindi, lei, quello che ha pensato, eh, accompagnandolo con un mezzo sorriso, eh, l'ha pensato, credendo che fosse un forestiero, tre, facendo, eh, che erano in tre, eh, facevano parte, diciamo, eh, allora, eh, a questo punto, però, quando vedete, l'angelo dell'Eterno, che sarebbe, ripeto che in quel caso era Gesù, eh, disse, eh, perciò, eh, ecco, vedete, perciò Sara rise dentro di sé, vedete che non lo manifestò, il sorriso, non lo manifestò, rise dentro di sé, per dire, mh, mh, come vuol dire, mh, 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 eh, io sono vecchia, ma mi ha riso, più vecchia mia, mh, non potete pensare altra cosa, no, eh, mh, il signor non si scherza, mh, 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 ma magari voi, avete sentito qualcosa, di qualcuno, no, e dentro di voi, mh, 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 va bene, ma questo è un linguaggio, c'ho sai femminile, vero, io da sono, pezzole, mh, 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 allora in quel momento uno pensa, cosa il signore non vede e non sente, no, perché pensi se uno, dentro di sé, di sono, mh, mh, però, guardate, che Sara, a differenza, non metto pure io un tome, inserisamente voi oggi per farne più assai io non ho menso così la cosa faccio più leggera quante volte noi ma io però sogno è uno cica che cica invece Sara dice però si è auto mortificata si è auto offesa si è auto come si dire resa incapace inutile mi capite non si è innalzata non ho pensato allora si vede che ancora mi posso romanare allora bravo no quindi si è lei che di alabramo quindi mi vedo diciamo condannando se stesso schernendo se stessa ci siamo in realtà capire non ha schernito qualcuno a qualche auso invece no lei anzi è stata noi vediamo che in lei c'è stata un'espressione di umiltà dice insomma ne ho mai semmo cosa di dittare come per dire no la buttano insomma a questa età questo sono sconosciuto ho detto dice vado ci riesimo a mangiare io non potrei pensare a Daniele gli abbiamo dato da mangiare a tutti chiesto in casa diceva da ora ma ne ripaga ne stanno bruciando questo fatto perché noi le abbiamo accolte bene allora il signore vedete per non farla sbagliare visto che lei eh visto che lei effettivamente si è sentita non all'altezza quindi sia lei che suo marito che Abramo allora il signore interviene guardate perché il signore poteva anche non parlare se ne andava e la stavantoso brodo vuol dire no invece eh perciò Sara rise dentro di sé vedete dentro di sé dicendo vecchia come sono avrei io tali piaceri dato che il mio stesso signore è vecchio e l'eterno disse ad Abramo perché mai ha riso eh Sara perché mai ha riso Sara Abramo ci potete dire che ne sa io non l'ho vista non l'ho sentita no però il signore gliel'ha detto per far capire a Sara vedi tu l'hai pensato e con il pensiero tu hai detto questo questo e quest'altro stasera chi pensiere quanto cosa abbiamo detto avanti ora dopo ci vuole guarda che ora questa cosa non l'assassiniamo quanto cosa avanti femmine no prima nel caso quanto cosa femmine o pure gloria a Dio ecco ecco non bisogna anche col pensiero perché certo ma io non lo dissi io lo pensai ma non lo dissi e no perché se lo pensasti è come se tu l'avessi detto o no io mi faccio i fatti miei non parlo ma due fratelli sono disgraziato ma io non parlo io non dissi niente e non dico niente mi faccio i fatti miei ma da sorella si mi ritorna la testa sceppata però io non dico niente o pensare quindi neanche col pensiero fratelli guardate stasera signore ne mi dice chi spade pure ma anche non lo possiamo manco pensare quindi quando ci viene un pensiero quando sta sorgendo un pensiero scrediamolo nel nome di Gesù guardate come il signore mi ha riportato che il pensiero è come è già come se fosse attenzione come peccato è chiaro che se uno non lo fa non è che può essere perché il pensiero magari ecco come in questo caso vedete il signore l'ha giustificata in un certo senso ma non gliel'ha imputata come peccato non gliel'ha imputato come peccato quello che lei ha pensato perché era in buona fede e quindi non è che lei sapeva che lui era l'eterno quindi è stata giustificata dal signore però il signore per farle capire che lui era veramente l'angelo dell'eterno cioè ecco Gesù che cosa dice perché ha mai riso Sara alleluia dice ad Abramo quindi lo dice ad Abramo perché lui sta trattando con Abramo fratelli non dimentichiamoci una cosa importante eh che in questo momento il signore ecco e mi rivolgo stavolta si mi rivolgo alle donne e stai vedendo che siete femmine perché voi donne erano mascole e allora e allora questa volta lo dico a chi di tutte e a chi di su davvero eh attenzione eh cercate voi donne di eh anche in questo di considerare vostro marito l'autorità costituita da Dio su di voi donne dice io io sacco quanto mi sa mio marito cominciaste avete cominciaste perché il fratello non è a casa io voglio vivere se il fratello fosse a mia casa e combattere sempre con mio marito senti se tu combatti con tuo marito e il tuo marito combatti con te perché vedete il signore avrebbe potuto anche dire direttamente a Sara Sara perché hai riso invece siccome siccome Dio è andato da Abramo dal capo famiglia ci siamo vedete quante sfaccettature ha la parola di Dio amén confidenza o signore a Sara non ce ne vedi o disse che il fratello l'aveva con noi non ce l'ho con voi è perché questa è la realtà perché vedete voi donne spesso sbagliate avete ragione magari che certe volte voi donne siete più intelligenti dei vostri mariti ma questo non vi autorizza a comandarle a prendere lo suo posto e dice la donna deve essere l'aiuto adatto per l'uomo quindi la donna deve collaborare a dare dei consigli e ad aiutare non perché il signore dice a te a te di canosce a te di canosce solo quando pagi assai unissimo fratello l'aveva con noi e allora perché se ve ne accorgi è troppo bello guardate stasera è troppo bello guarda gli sta montando il signore i film stasera guardate il signore non perché non parla con Sara eh però la tiene in considerazione la tiene in grande stima fiducia e valore perché Sara deve partorire è giusto quindi vedete che il signore non la esclude però non escludere una persona non significa togliere l'autorità all'uomo e dalla la donna ci siamo infatti guardate il signore parla e tratta sempre con Abramo se ve ne accoglite no perché poteva dire o ci permettete che Sara ci preparava il pane impastavo lì impastate la cosa perché Abramo disse a Sara dice presto prendi tre misure di fior di farina impastala e farne delle focacce non è che Sara stava sbavigliando tutto il tempo Sara in questo caso guardate in questo caso possiamo dire che Abramo stava fermo e come andava eh parliamo di Abramo se vanno accogliti comandava se erano i giorni nostri alcuni però non tutti alcuni tu tu invece non ti metti a comandare perché non ti vuoi pure tu oh oh pure che non dici però vince vedete vedete come il signore rispetta l'autorità eh quindi non è che butta giù la persona di Sara però il capo della donna è l'uomo il capo dell'uomo è Cristo il capo di Cristo è il padre è Dio ci siamo quindi il signore tratta con Abramo ora avrebbe visto che Sara era stata eh lì attiva aveva cucinato i pane aveva impastato la farina amén e e Abramo era lì quindi comandava solo no ma mai mi è succeduto tu voglio filmare che magari questo marito lo dice vuoi fare qualcosa ma perché tu non ti puoi muovere perché tu puoi fare tutta cosa no vada vada tutte sante sono stasera non dice non nulla io fanno tutti quasi così non lo sappiamo guardate qui è capace che non ha sugli occhi e allora guardate come il signore eh in questa circostanza ci insegna anche come dobbiamo comportarci donna ripeto come tante volte anche nel passato nel suo presente nel presente non ve lo so dire ma perché il signore perché per forza il mio marito lo ha a fare perché non può dire dire direttamente a me oppure per forza l'anziano perché io non prego perché io non prego non ci chiedo il signore perché il signore non può rispondere dico che c'entra tu c'è una sorella che fa no tu punta perché ci sono tutte l'aura poi ci sono tutte le altre ascoltare quando sto colto vai non è che calma pensare solo con noi quindi allora a questo punto ecco la donna si attenga al proprio ruolo amè ubbidisca al marito e se riconosce che il marito sta sbagliando non si vesta da autorità ma di aiutante consigliera amè perché Dio ha creato la donna per Adamo per essergli di aiuto convenevole amè ci siamo non la non gliela ha creata né per essere schiava cammarera dicono però ognuno deve stare al proprio posto e il signore guardate a meno per quanto riguarda me sta dando una visione bella chiara limpida e se vada torna a ripetere essendo perché per dire perché io non sto lavorando pure nel campo del signore sto facendo questo sto facendo quest'altro e perché Sara non pastavo la farina e fici i panni azimi però signore non ha parlato con lei ad Abramo gli ha detto dove è Sara tua moglie e Abramo è la nella tenda e gli disse tornerò certamente da te l'anno prossimo questo tempo ed ecco Sara tua moglie avrà un figlio vedete che non gliela ha detto a Sara non ci potete dire a Sara dopo che Sara poveretta si è messo da un po' sta farina per ci fare i pocacci non si meredava a meno una paroletta di cose no il signore la chiama solo quando la va a rinproverare se ci facete caso è vero o no? vedete che il signore la chiama solo quando la va a rinproverare e anzi è manco figlio guardate sia glorificato fratelli vedete che questo io scherzo vedete che non stai scherzando io parlo davvero è così per per non demoralizzarne e non mi nascondo che alcune donne nel passato hanno risposto in una maniera maleducata e addirittura nel rispondermi mi hanno detto che erano battezzati con lo spirito santo fu curato gloria a Dio gente che trammettia quando mi dico questo vedo tutte cose perché ad alcuni insomma ho cercato di spiegare le cose e fogliola stava attenti ah e noi non abbiamo bisogno perché abbiamo lo spirito santo lo spirito santo ah uno lo spirito santo dai due anni sì però c'è sempre e allora ora non vorrei che questo accadesse ancora oggi sia nei confronti dell'anziano e sia nei confronti donne dei vostri mariti e ripeto questo il Signore lo sta dicendo sia a noi di questa piccola comunità che credo che anche questo andrà in onda che a tutte le donne che ascolteranno questo messaggio che andrà in onda per via radio perché questi insegnamenti non sono solo per la nostra piccola comunità questi insegnamenti il Signore li sta dando per tutti i credenti di tutto il mondo amén quindi questa sera ci sono delle Sara in questa piccola comunità e quando andrà in onda ci sono delle Sara anche nel mondo intero e questa legge è uguale per tutti l'autorità va rispettata perché se si rispetta qui l'autorità la si rispetterà nei nuovi cieli e nella nuova terra perché se vedete non si si abitua a osservare la parola di Dio adesso non si osserverà neanche nei nuovi cieli e nella nuova terra dice no ma lì provvederemo no perché poi dai non ci saranno mi capite quindi il Signore ci ammaestra appunto ora perché quelli che non osservano i suoi insegnamenti la sua parola non entreranno quindi un uomo dice no ma poi quando mi ritroverò nel regno dei cieli oppure nel millennio lo farò questo no perché il Signore non faccia neanche il regno dei cieli ci siamo alleluia e allora tanto è vero guardate che ripeto nonostante Sara avesse cucinato e attenzione non solo cucinato lei e anche guidato i servi a quello per ci far ammazzare un vedello per ci far macellare cucinare tutte cose guardate che ha avuto un ruolo importantissimo ruolo che Abramo non ha avuto perché Abramo era solo lì che vadava e parrava e comandava è vero o non è vero si potrebbe va dire comanda fa dice vedete vediamo l'avevamo mai visto noi queste posizioni tanto di Abramo e di Sara ve ne accorgete gloria a Dio come effettivamente Abramo non ha fatto niente non fece niente anzi dice che stesse lì all'impiede tutto il tempo che loro mangiavano possibilmente eh lui comandava e dirigeva ecco gloria a Dio il direttore e pensate che Abramo come noi sappiamo ha scelto 318 servitore per andare a liberare lotte quindi guardate quanti ne aveva e quindi lui aveva era veramente direttore sia della famiglia che di tutta la servitù che aveva gloria al Signore alleluia e allora a questo punto nonostante Sara avesse cucinato preparato e fatto tutto eh il Signore avrebbe potuto premiarla per dire ecco tu ci hai serviti tu hai cucinato hai fatto tutto bene eh allora io ora ti annuncio eh questa bella eh notizia ecco ti do questa bella notizia eh fra un anno avrai un figlio io tornerò avrai un figlio a un dice ad Abramo Abramo tra un anno tornerò e Sara tua moglie avrà un figlio e io che sogno una scuba che sogno nenti fratelle che non ho saputo quanto non hai visto chi mi occhia quanto non hai udito il Signore sta parlando così ma vedete che queste cose anche se sembrano inverosimili vedete che si sono verificate nella realtà che la donna ha parlato troppo alleluia e il Signore non vuole che i suoi parlino troppo alleluia ma che ognuno eh si studi come meglio fare la volontà di Dio ecco perché fratelli la porta e sia la via sono strette amén perché poi non sono strette affatto perché è cotardo non vuole fare la cosa altrimenti lo fa liberamente gloria al Signore e allora guardate quindi il Signore glielo dice ad Abramo alleluia amén a Sara non dice niente solo siccome Sara sta peccando con il pensiero eh però involontariamente ripeto perché non sapeva che quelli fosse Gesù l'angelo dell'eterno eh perciò ora Abramo e Sara erano e Sara dunque ascoltate ora Sara e Abramo erano vecchi ed ed è avanzato e Sara era perciò Sara rise dentro di sé dicendo vecchia come sono avrei io tali piaceri dato che il mio stesso Signore è vecchio e l'eterno disse a cosa disse a Sara se Sara ha riso che c'entra che ci dice ad Abramo donne vorrei che voi poneste mente attentamente amè e non lasciatevi condizionare o di parenti o di soggiri o di masi lasciatevi guidare dalla parola di Dio perché tante volte le mamme danno consigli che ritengono giusti però sono sbagliati una volta ve l'ho detto qualche volta quando verità perché in tutte le famiglie succede che si litiga fra marito e moglie no? allora e allora mi ricordo che ogni tanto mia mamma e mia papà no? facci uno sta festa che le regavano tra di loro allora no? io mi cuore se per di Dio non ce l'ha detto quando i figli sentono le regare il genitore si amareggiano no? però sono cose che succedono hanno succeduto sempre e succedono sempre allora mia mamma no? e io dico e se ci arriva con mio papà no? ma 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 ricetto di erano però siccome sono cose ripeto che succedono dappertutto e e allora non eravamo credenti non riuscì tanto dalla famiglia manco mia nonna più curiosa poteva leggere la Bibbia e allora vero ve lo dico era analfabeto allora mia mamma no? tutta paunazza no? e o Dio ora ma ne vai ma mamma ma ne vai ma mamma ma poi ci facciamo e va a dirne no? allora mia mamma aveva i suoi pregi però aveva i suoi difetti eh ogni tanto io ci dava tutto spesso e allora quando arrivavo mia nonna eh assoluta eh mamma che fai tu a storare il cavo scuro vedi mi sciarriai come una rida o di rida ma eh cercava di giustificarsi di fare cosa quindi aspettava che la mamma la difendesse ma mia nonna ci faceva batte pa casa da cussa va inni pa casa da cussa va inni chi è tuo marito va inni pa casa oh non l'ha accolta mai a mia mamma e io ricordo che l'ha fatto un paio di volte eh e come mia madre anche altri miei zii perché erano numeratati quindi sta cosa è musica di sempre tutti i miei amici perché dicevano che allora eh allora addio oh ma mia nonna li pigliava e mannava a riti ci faceva fare dietro fronti i sira stiso non è che ci diceva vada questa sera che è scuro no con scuro stiso con scuro veniste e con scuro dove vai eh e la faceva ritornare lì eh allora in quella maniera eh eh poi giustamente le acque si calmavano mio padre si calmava ma mamma dopo da passiate notti l'abbia rinfrescato ce ne vede pure una picca no quindi vedete ora attenzione con questo alleluia a Dio non è che voglio dire che non bisogna dare ragione però non bisogna mai portare la donna a sbagliare alleluia amen mamme date saggi consigli alle vostre figlie amen voi uomini cercate di rispettare di amare la vostra moglie amen come il vaso più debole ma non è mai caso un vettere così è un detto vaso più debole ma se tu non copi due sono tanti e non ammazzano e allora quindi no a parte di amare la moglie perché se non si ama la moglie fratelli vedete che si paga davanti al signore perché non è che sta legge sui fimmari è legge pure i mascoli e la retribuzione poi la dà il signore amè e tanto mariti che mogli cercate di trovare sempre una parola come acqua che spegne il fuoco non che lo alimenti perché ci sono parole eh che sono come legna secca che si accende la fiamma ancora di più invece tanto uomini tanto mariti che mogli dobbiamo trovare delle parole come acqua da spegnere il fuoco che si è acceso all'eva bene quindi non perché il dio vedete non ha chiamato in causa a Sara che l'ha disprezzata non l'ha disprezzata anche l'ha onorata celatamente per farci capire il posto che deve avere la donna non deve mai innalzarsi al di sopra del marito perché il signore non tiene conto della moglie come capofamiglia ma del marito e vedete che tante benedizioni non si ricevono a causa pure di queste traspressioni sembrano cose da nulla ma sono importantissime perché le autorità si devono rispettare qui sulla terra perché sono la figura del vero nel millennio e nei cieli per tutta l'eternità vedete quindi il signore intanto vedete come perché vedete Sara ha ricevuto il suo premio fratelli del lavoro stesso che ha fatto perché se Sara non avesse fatto quel lavoro non avesse impastato la farina non avesse fatto le focacce non avesse diretto i servitori a cucinare sia la carne a servire diciamo il latte la cagliata la carne queste cose se lei l'avesse fatto male il signore non l'avrebbe premiata quindi ciò significa che Sara ha fatto un buon lavoro un lavoro gradito a Dio perché se non fosse stato gradito a Dio il signore non avrebbe detto ad Abramo Sara tua moglie avrà un figlio fra un anno ma capite quindi già involontariamente Sara riceve il suo premio non se ne accorge non lo sa ma il signore ce lo sta spiegando vedete come io premio senza che gli altri se ne accorgono quindi chiunque fa la volontà di Dio e fa bene le cose riceverà il suo premio anche se non se ne accorge Amen e qui mi fermo e si è glorificato il Dio ora è sempre in eterno Amen Alleluia Alleluia gloria al tuo santissimo nome Alleluia così Padre santissimo come sempre Alleluia ci hai saziati con i tesori Alleluia del Signore del cielo Alleluia col tuo vero pane Signore che Signore ci sazia e la tua acqua che ci disseta grazie Signore perché ci provvedi di tutto Signore sia quando siamo a casa e quando siamo qui in questo luogo nella nostra casa la casa che ti sei scelto per ammaestrarti per ammaestrarci e per adorarti Alleluia alleluia al tuo nome quindi accetta ciò che Signore ti offriamo del continuo sia qui che nelle nostre case e ovunque ci troviamo perché Signore è il frutto del sentimento dell'amore Signore di questo fiore che hai fatto sbocciare nella nostra vita Signore emanando quel profumo che è Te Signore è tanto gradito quindi gradiscilo anche questa sera insieme a Gesù che benediciamo ora e sempre in eterno Amen Alleluia Amen Amen Dio sia lo dato Amen Signore ci benedica Ed abbiamo insieme ascoltato la parola di Dio attraverso quest'altro culto meraviglioso che è appena giunto al termine Vi ricordo che sarà per sempre a vostra disposizione sul nostro canale Youtube la nostra pagina Facebook dove è già stato trasmesso insieme con tutti gli altri del martedì e venerdì sera e con tutte le dirette del fratellonino della domenica mattina alle 10 e un quarto Prima di salutarvi vi ricordo il nostro numero che è 349 64 11 232 Ripeto 349 64 11 232 Vi ricordo che potete anche scriverci a pastore chiocciola rmcr Radio Messaggio Cristiano vi tiene compagnia con l'ultima trasmissione sulla nostra frequenza radio Il fratellonino vi saluta attraverso il versetto e il relativo commento il versetto del calendario di Radio Messaggio Cristiano sulla nostra pagina Facebook E io vi saluto dandovi appuntamento alla prossima trasmissione del culto Pace a tutti da Radio Messaggio Cristiano Buon ascolto e buona visione Pace a tutti I tolli Pace a tutti Pace Pace a tutti Grazie a tutti.